L'Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti missili a lungo raggio con una gittata di circa 300 chilometri. Sono già stati impiegati in almeno due occasioni e secondo me gli americani potrebbero esserlo nuovamente contro obiettivi in Crimea o nel Donbass. Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha commentato che l'Unione Europea non ha rispettato pienamente gli impegni militari presi con Kiev. La Lituania ha dichiarato giovedì che potrebbe aiutare l'Ucraina a far rientrare uomini in età da combattimento come già fatto dalla Polonia. A inizio mese Kiev ha abbassato l'età di leva a 25 anni nel tentativo di rafforzare l'esercito. Una settimana fa ha imposto che gli uomini tra i 18 e i 60 anni ritenuti donne al servizio militare potranno rinnovare il proprio passaporto solo in Ucraina. Si tratta di almeno 860.000 persone residenti o fuggite dopo l'invasione russa nei paesi dell'UE.